Prendete due ragazzi e portateli al bar. Il primo ordina il solito drink, il secondo un latte di mandorla condorelli. Il primo si sta dissetando, il secondo anche, ma in modo sano e naturale, perché il latte di mandorla condorelli è fatto di sole mandorle, acqua e zucchero. È leggero, aiuta a mantenersi in forma. Il primo a questo punto sta cambiando il suo drink con un latte di mandorla condorelli. Il secondo... è già andato a dar fastidio alle ragazze. Latte di mandorla condorelli, dissetante naturale. A proposito, lo trovate anche al supermercato. Prendete due ragazzi e offritegli da bere. La prima ordina il solito drink, la seconda un latte di mandorla condorelli. La prima si sta dissetando, la seconda anche, ma in modo sano e naturale, perché il latte di mandorla condorelli è fatto di sole mandorle, acqua e zucchero. È leggero, aiuta a mantenersi in forma. La prima a questo punto è già infastidita, la seconda... si sta guardando intorno per vedere chi infastidirà lei per il resto della serata. Latte di mandorla condorelli, dissetante naturale. A proposito, lo trovate anche al supermercato.